Benvenuti su Lady Gossip, il canale YouTube dove vi sveleremo tutti i piccanti dettagli della vita delle celebrità. Iniziamo con l'ultima chicca su Antonella Fiordelisi, la celebre influencer e ex concorrente del grande fratello VIP. Recentemente, ha creato un vero e proprio pandemonio online con un piccante incidente hot che ha catturato l'attenzione di tutti i suoi fan. Con oltre 1,5 milioni di follower su Instagram, Antonella è nota per la sua presenza in trasmissioni TV e per la sua vita sentimentale al centro dei riflettori. Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, Temptation Island e la sua avventura nel grande fratello VIP, sembra che il suo cuore sia nuovamente in cerca di amore. Il recente episodio hot ha visto Antonella indossare un audace completo rosso, composto da un top cortissimo e un pantalone di velluto coordinato. Tuttavia, il top, evidentemente troppo piccolo, ha ceduto, svelando un decolleté mozzafondato e scatenando un vero e proprio boom di like e commenti sui social. La sua vita sentimentale può essere avvolta nel mistero, ma la sua popolarità online è in costante crescita. Antonella Fiordelisi continua a incantare il pubblico con la sua bellezza mediterranea e la sua autenticità, rendendola una delle figure più amate nel mondo dello spettacolo e dei social media. Restate sintonizzati per le prossime indiscrezioni sul nostro canale Lady Gossip.